Super unboxing di un sacco di regalini che mi sono arrivati, è praticamente Natale. Tra l'altro io sono in ritardo, non ho tempo per fare questo video, ma non mi ricapiterà più di essere così preparata, quindi facciamolo. Non so da dove iniziare. La delicatezza. Secondo me ho un'idea di che cosa sia. Adoro! No vabbè, no vabbè. È tutto il kit per le ciglia, il piegaciglia, il mascara blu. Questo cos'è? Non ci credo. Cioè, sono letteralmente delle mini pastiglie per prendersi cura delle nostre ciglia e sopracciglia. Innamorata. Poi ci sono un sacco di cose del mio brand del cuore, ovvero Clinique. È sempre stato il mio sogno, ragazzi, fare questi video. Cos'è? Ragazzi, io amo la chimica. Questo pack è fantastico. Non ci credo! Mi fa molto ridere perché ultimamente sono in fissa con le rughe, cioè ho veramente paura che mi vengano. E mi hanno dato questo kit sia per il cotone occhi sia per il viso. Appunto, antirughe. E questo qui ha pure l'SPF. Cioè, mi devono proprio aver letto il pensiero. Ma procediamo. No. Dimmi che è quello che penso. È proprio lui il mio prodotto preferito della vita. Black Honey, ovviamente. E c'è anche da provare il nuovissimo Pink Honey. Vabbè. Ma non è finita qui. Fondazione del correttore che sono perfetti per tutte le pelle con imperfezioni. Un altro mini Black Honey. Mascara crema idratante. E struccante che io amo. Tra l'altro avevo quasi finito il burro struccante, quindi top. C'è. Questo qui tra l'altro è l'unico che non mi brucia gli occhi. In mezzo troviamo così un venile di Alfa. Grazie a Andre, ti amo. È stupendo. Di vestiti invece c'è questo regalo di motivi. È un abito stupendo, io l'ho già provato. È bellissimo. E questa borsettina troppo carina. Per concludere... Che devo dire? Sono veramente super grata. Grazie mille, è tutto bellissimo. Ciao, ciao!